Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni continuano a far parlare di sé, dimostrando un amore sempre più forte e condiviso. La coppia, che di recente ha trascorso una romantica vacanza alle Maldive, ha condiviso con i fan un tenero momento familiare attraverso i social media. La showgirl argentina ha recentemente pubblicato una storia su Instagram che mostra un affettuoso abbraccio con la madre del suo compagno. In un contesto sereno e colorato dai toni dell'autunno, Belen passeggia nel giardino, circondata dai caldi colori della stagione, con il braccio affettuosamente intorno alla vita della madre di Elio Lorenzoni. La didascalia che accompagna l'immagine non lascia spazio a dubbi sull'affetto che lega Belen a questa figura familiare, la suocera più bella del mondo. Mentre Belen Rodriguez è nota per la sua presenza costante sui social media, il suo compagno, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, è solitamente più riservato. Tuttavia, il legame tra i due è evidente anche attraverso le rare apparizioni di Lorenzoni nelle foto e nei post della showgirl. La domenica scorsa, Belen ha trascorso del tempo di qualità con la famiglia di Elio Lorenzoni, testimoniando ancora una volta la solidità dei legami familiari nella sua vita. La coppia sembra vivere una fase molto felice della loro relazione, e la madre di Elio, secondo Belen, è chiaramente entusiasta della storia d'amore che lega il figlio e la popolare showgirl. Nonostante le voci di una possibile proposta di matrimonio durante la loro vacanza alle Maldive, i diretti interessati non hanno ancora confermato ufficialmente nulla. Belen aveva inizialmente suscitato l'entusiasmo dei fan postando una foto con un anello all'anulare sinistro e la didascalia, sì, ma successivamente aveva aperto spazio a mistero e curiosità cambiando la posizione dell'anello sulla mano destra. In attesa di ulteriori sviluppi sulla loro relazione, i fan possono godere dei dolci momenti di intimità e condivisione che Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni condividono attraverso i social media, regalando uno sguardo privilegiato alla loro vita privata sempre più affiatata.